A mezzogiorno di oggi, giovedì 14 settembre, come annunciato, tutti i telefoni cellulari presenti sul territorio pugliese hanno ricevuto un messaggio di test accompagnato da un suono unico e facilmente riconoscibile perché diverso da quelli in dotazione sui propri dispositivi. Si tratta del primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, IT Alert, promosso dal Dipartimento di Protezione Civile che una volta superata la fase di sperimentazione permetterà di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Il sistema di allerta, una volta entrato effettivamente in funzione, si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o instabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici. Molto importante per la fase di testo odierna è rispondere al questionario a cui è possibile accedere attraverso il link legato al messaggio di allerta. Le risposte degli utenti consentiranno al Dipartimento di Protezione Civile di migliorare lo strumento. IT Alert è arrivato per alcuni puntuale a mezzogiorno, per altri con qualche minuto di ritardo. Non tutti i pugliesi erano al corrente del test e non sono mancate segnalazioni e richieste di chiarimento. Una volta ricevuto il messaggio, qualcuno inevitabilmente ha avuto non poca paura nel ricevere ed ascoltare quel messaggio d'allerta.